La mia opera qui alla mostra di Colorescenze si intitola Dove il cielo è più vicino, tra parentesi l'ultima scena. È la quinta parte di un progetto che è iniziato nel 2014 che si intitola Dove il cielo è più vicino e tutte le cinque parti hanno un sottotitolo. La prima è Il diavolo metitore, la seconda è Poderi, la terza è Contadini, la quarta è Trebbe Astronave e la quinta è Ultima Scena. Questa Ultima Scena è stata commissionata, mi avevano chiesto di pensare come tema a un'ultima scena. Io ho pensato di mettere tutte le foto, anche di documentazione, di tutto il lavoro di Dove il cielo è più vicino in pasto all'intelligenza artificiale. Questo nel luglio 2023, non sapevo usare l'intelligenza artificiale e ho imparato dopo 20 giorni a dargli in pasto le mie foto. Ho dato tutte le foto così e sono venute fuori queste foto qua e ho fatto una selezione perché ne ho fatte tipo mille perché poi l'intelligenza artificiale è un vomito di roba. Si vede molto il territorio toscano, perché sì, sono dentro la Toscana, ma soprattutto il mio territorio di campagna, la mia terra proprio si vede molto evidente in tutti i miei lavori, in tutti, perché fin dall'inizio, da quando sono andata a Milano, perché io sono andata a 19 anni a Milano a studiare e all'inizio la città mi sembrava un po' come Collodi, con Lucignolo e Pinocchio, però poi dopo due o tre anni mi stavo rendendo conto che mi mancava quella apertura del paesaggio. Io quando sono andata via la odiavo, odiavo la Maremma perché era campagna e io volevo stare in città, non volevo essere figlia ai contadini, non vedevo l'ora di andare e poi quando mi è mancata tutto questo odio è diventato nostalgia. Uso un po' tutti i tempi nei miei lavori, metto il tempo passato, presente, futuro, tutto un po' insieme. Il futuro è perché è un passato, uso molto l'archivio, ho sempre usato molto l'archivio, oppure le cose del mio passato che rivisito nel presente, nel senso che le rimescolo anche con quello che sono adesso e tutto e che ricrea una cosa tipo, per esempio sto pensando al lavoro che ho fatto su mia mamma dove ho creato un nuovo futuro di quelle foto lì perché ho preso delle foto di archivio di mia mamma dove io non c'ero perché io l'ho persa all'improvviso nel 2004 e mi ci sono infilata dentro vicino a lei per andarle a dire quello che le sarebbe successo perché è successo un incidente domestico e volevo avvertirla e quindi mi sono rifotografata per stare accanto a lei e dirle quello che le sarebbe successo nel suo futuro che per me era già passato. Quando gliel'ho fatta fin dall'inizio volevo creare un dialogo con lei ma perché pensavo nella mia testa di poterla avvertire per poter uscire fuori dalle foto e rivivere di nuovo insieme perché speravo in questa cosa poi invece piano piano mi sono rassegnata e quelle foto sono diventate un nuovo futuro.